E dopo aver visto sullo schermo i protagonisti del San Costanzo Show con i loro film che è andato in onda qualche giorno fa, il 22 luglio saranno in carne e ossa per gli spettatori del secondo anello della BCC di Fano. Con quale spettacolo? Con cavalli anzi somari di battaglia, le migliori gag del San Costanzo Show in giro per le marche e in questo caso all'arena BCC di Fano. Ci saranno i più grandi personaggi della storia del San Costanzo Show? Sempre lui? Ditegli qualcosa? Lui non ci sarà? Lui non ci sarà? È un infiltrato? Ci sarà Rosa della Cecca, Orieta Pedotti, tutti i classici personaggi e anche dei nuovi. Ci saranno anche le signore pesaresi, volevo dire, visto che ci siamo a Pesaro, ci saranno le famosissime signore pesaresi, ma non svegliamo nient'altro. Niente, diciamo che vi aspettiamo. Ci saranno balletti, danze e anche musical. Arena BCC, vi aspettiamo. Non vedo l'ora di andare in scena con i cavalli di battaglia del San Costanzo Show. Ma non è cavalli, è romari di battaglia. Le più grandi risate della storia del San Costanzo Show. Ragazzi, ma non fa ridere, il titolo è terribile. No, no, è bruttissimo, è bruttissimo. Sono mari di battaglia, sono mari di battaglia, il San Costanzo Show a teatro.